Il termine bioplastica è composto da un prefisso bio e dal termine plastica. Plastica si riferisce ad un materiale termoformabile, ossia che può essere fusota e si scioglie, diventa malleabile e può essere trasformato in film o in oggetti di varia natura. Il termine bio, come è noto, fa riferimento a vita e può indicare due cose, o l'origine della plastica da materie prime biologiche appunto, ossia naturali, quale ad esempio l'amido e la cellulosa, oppure alla biodegradazione, la degradazione naturale dovuta ai microrganismi. Il termine è molto usato ma è anche molto criticato perché può dare origine a confusione. Infatti dicendo bioplastica non si capisce se ci si riferisce all'origine biologica naturale oppure alla biodegradazione o ad entrambi. Per questo motivo è sempre preferibile chiarire aggiungendo plastica biodegradabile o plastica a base biologica. La situazione ottimale è quando la plastica è sia biodegradabile che di origine biologica, cosicché non c'è possibilità di equivoco. Ad esempio i prodotti Mater B sono bioplastiche in quanto sono biodegradabili ed utilizzano in parte materie prime di origine vegetale.